buon pomeriggio eccoci qui buon pomeriggio grazie di essere già presenti Gianluca buon pomeriggio Dorotea buon pomeriggio ciao a te Amelia buonasera grazie a te che sia ricca buon pomeriggio dalle tue parti di nuvole cupo oggi qui è stata una giornata un po' incerta francamente sembrava di non aver deciso se voleva essere una giornata col sole o una giornata con le nuvole però molto vento Gianluca anche al centro è brutto pomeriggio qui ancora non piove spero non piova però ripeto un cielo che è incerto che va e che viene dunque siamo qui per leggere la peste di Camus un testo del 47 1947 un testo molto importante molto famoso che però non sempre viene letto non molti l'hanno letto e a mio parere è un peccato quindi cerchiamo di rimediare quanti di voi qui presenti stasera hanno letto questo testo anche magari soltanto dei brani delle delle parti estrapolate Lisa buon pomeriggio anche a te Anna Paola ciao Giusy ciao anche a te benvenute conoscevate già questo testo l'avete già letto o qualcos'altro magari dello stesso autore di Camus intanto io mi preparo apro il file dell'ebook Anna Paola dice di no Dorotea no che sia rica no e infatti so che è poco frequentato ma anche perché devo dire purtroppo a scuola non non viene spesso affrontato e molte delle nostre letture sui classici del novecento dipendono anche da quanto abbiamo sentito raccontare di loro a scuola Costantino ciao ti prepari due toast io invece ho la mia tazza di tè qui a fianco è sempre l'ora del tè per me le 17 voi lo sapete Amelia no hai letto altro hai letto altro sempre di Camus che cosa lo straniero forse ecco esatto Lisa infatti dice l'estranger questo invece no bene allora per chi non lo conosce Camus rimediamo subito comunque questo è un testo molto importante così come anche lo straniero certamente Camus tra l'altro è stato poi insegnito del premio Nobel per la letteratura nel 57 questo testo è di dieci anni prima del 47 ma anche questo ha sicuramente contribuito poi all'assegnazione del premio il testo è stato inizialmente subito interpretato in chiave metaforica di quello che era appena accaduto in Europa il testo è uscito nel 1947 quindi l'Europa era appena uscita dalla tremenda esperienza della seconda guerra mondiale e questo testo è stato interpretato come metafora della guerra e degli orrori del nazismo quindi la peste è intesa come metafora della della del nazifascismo e come reagiscono i personaggi di questo romanzo alla peste è poi stato interpretato come metafora della resistenza che hanno posto molti popoli tra cui sicuramente anche i francesi però il testo come spesso accade per tutti i testi che definiamo classici questo abbiamo detto anche altre volte nelle nostre chiacchierate pomeridiane travalicano il senso del tempo e contengono dei messaggi che possono essere reinterpretati a seconda dei momenti storici adesso noi ci troviamo in un periodo storico in cui abbiamo veramente una epidemia in atto non è la peste di manzoniana memoria ma è un'epidemia che ci costringe a casa con la quale dobbiamo fare i conti cambia il modo di relazionarci che abbiamo tra di noi e lo vedremo anche in questo testo ecco perché ho scelto di leggere in questo periodo con voi proprio questo testo perché sentirete quanti riferimenti può avere con il nostro presente e quanti significati metaforici allegorici può ancora portare con sé a me l'hai letto anche saggi filosofici brava complimenti che se ricca stai preparando la tisana alla malva poi aggiungi il miele il meteo te lo permette sì infatti se continua così io stasera chiedo a claudio mio marito di accendere il caminetto giusi anch'io bevo il mio tè bene anch'io ho il mio tè ovviamente il pomeriggio preferisco sempre un tè verde bene partiamo la vicenda si svolge in una cittadina sulla costa algerina che era nato in algeria che era dominio francese e in questo caso la scena si svolge ad orano una cittadina sulla costa algerina in un anno 1940 puntini puntini cioè un anno della della decade degli anni 40 non precisato il protagonista è il dottor rio la mattina del 16 aprile il dottor bernard rio uscendo dal suo studio inciampò in un sorcio morto in mezzo al pianerottolo al momento non ci fece caso e scostata la bestia discese le scale ma non appena nella strada gli vende il pensiero che quel sorcio non era al posto suo e tornò indietro per avvertire il portiere davanti alla reazione del vecchio michel ancor meglio si accorse che la scoperta aveva qualcosa di insolito la presenza del sorcio morto gli era sembrata soltanto strana mentre per il portiere costituiva uno scandalo la posizione di quest'ultimo d'altronde era categorica non vi erano sorci in casa il dottore ebbe un bel dirgli che ce n'era uno sul pianerottolo del primo piano e probabilmente morto la persuasione di michel restava intatta non vi erano sorci in casa doveva quindi quello là essere stato portato da fuori in breve si trattava ad uno scherzo la sera stessa bernardo rio in piedi nel corridoio dello stabile cercava le chiavi prima di salire al suo appartamento quando vide sorgere dal fondo scuro del corridoio un grosso topo dall'andatura incerta e dal pelame bagnato la bestia si fermò sembrò che cercasse un equilibrio prese la corsa verso il dottore di nuovo si fermò girò su se stessa con un piccolo grido e poi cadde vomitando sangue dalla boccuccia semi aperta il dottore la guardò un momento poi salì in casa sua non pensava al sorcio quel sangue vomitato lo riportava alle sue preoccupazioni malata da un anno sua moglie doveva partire il giorno dopo per la montagna la travò coricata nella loro camera come lui le aveva consigliato per prepararsi alla fatica del viaggio ecco dunque la scena iniziale il dottor rio trova questo primo topo morto sul pianerotto avverte il portiere il quale dice no deve essere sicuramente uno scherzo qualcuno l'ha portato da fuori perché in questo stabile che controllo io qui topi non ce n'è il dottore però ha dei pensieri perché la moglie è malata e deve partire per andare in una clinica a curarsi in in montagna qui abbiamo già un elemento che quello della malattia lo stesso camus era malato a 17 anni ed era stata diagnosticata una tubercolosi a causa di questa tubercolosi non aveva potuto per esempio fare il concorso questa idea della malattia che in qualche modo cambia le vite e qui già nelle prime righe allora il dottor rio il giorno successivo la moglie alla stazione e contemporaneamente poi arriva invece sua madre che appunto gli farà compagnia finché la moglie è fuori tutto il quartiere comincia a parlare dei sorci quindi non è soltanto un caso e anche il portiere il signor michel anche il signor michel deve fare i conti con questa realtà a partire dal 18 aprile le officine e i magazzini traboccarono effettivamente di centinaia di sorci morti in alcuni casi si fu costretti a finire le bestie la cui agonia era troppo lunga ma dai quartieri esterni sino al centro della città dovunque il dottor rio si trovava a passare dovunque si radunavano i nostri concittadini i sorci aspettavano a mucchi nelle pattumiere o in lunghe file negli scoli la stampa della sera da quel giorno in poi si impadronì della faccenda e domandò se il municipio sì o no si proponesse di agire e quali misure urgenti si fossero escogitate per difendere gli amministrati dalla ripugnante invasione il municipio non si era proposto nulla e nulla aveva stabilito ma cominciò col riunirsi in consiglio per deliberare fu dato ordine al reparto di derattizzazione di raccogliere i sorci morti ogni mattina all'alba finita la raccolta due furgoni del reparto dovevano portare le bestie al forno crematorio delle immondizie per bruciarle ma nei giorni che seguirono la situazione si aggravò il numero dei roditori trovati andava aumentando e la raccolta era ogni mattina più copiosa le cose andarono sia avanti che l'agenzia Ransdok annunciò nella sua trasmissione radiofonica di notizie gratuite 6.221 topi raccolti e bruciati nella sola giornata del 25 la cifra che dava un significato palese al quotidiano spettacolo che la città aveva sotto gli occhi aumentò lo smarrimento sino ad allora ci si era soltanto lagnati di un fatto un po ripugnante ci si accorgeva adesso che il fenomeno di cui non si poteva ancora precisare l'ampiezza né svelare l'origine aveva qualcosa di minaccioso il 28 aprile intanto la Ransdok annunciava una raccolta di 8.000 topi all'incirca l'ansia in città era al colmo si richiedevano misure radicali si accusavano le autorità e certuni possessori di case in riva al mare parlavano ormai di ritirarvisi ma il giorno dopo l'agenzia annunciò che il fenomeno era cessato di colpo e che il reparto di derattizzazione non aveva raccolto che un numero trascurabile di sorci morti la città respirò fu tuttavia in quello stesso giorno alle 12 che il dottor Rieu fermando l'automobile davanti alla sua casa scorse in fondo alla strada il portiere che veniva avanti penosamente con la testa china le braccia e le gambe discoste simile a un burattino il vecchio si teneva al braccio di un prete che il dottore riconobbe era padre panelù un gesuita colto e militante che aveva talvolta avvicinato ed era stimatissimo nella nostra città anche dagli indifferenti infatto di religione il dottore li aspettò il vecchio michel aveva gli occhi lucidi la respirazione sibilante non si era sentito molto bene e aveva voluto prendere aria ma forti dolori al collo alle ascelle agli inguini lo avevano costretto a tornare indietro e a chiedere aiuto a padre panelù ho dei gonfiori disse debbo aver fatto uno sforzo col braccio fuori dallo sportello il dottore passò un dito alla base del collo che michel gli tendeva una sorta di nodo legnoso vi si era formato coricatevi misuratevi la temperatura vi verrò a trovare nel pomeriggio andato se nel portiere rio domandò a padre panelù che ne pensasse della storia dei sorci deve essere un'epidemia disse il padre e gli occhi sorrisero dietro le lenti rotonde gli strilloni dei giornali della sera annunciavano che l'invasione di sorci era bloccata ma rio trovò il suo malato che pencolava quasi fuori dal letto con una mano sul ventre e l'altra intorno al collo vomitando a forti strappi una bile rossastra in un bidone di immondizie dopo lunghi sforzi senza fiato il portiere si coricò la temperatura era a 39 e mezzo i gangli del collo e le membra erano gonfi due macchie nerastre gli si allargavano sul fianco si lamentava adesso di un dolore interno mi brucia diceva mi brucia quel porco la bocca fuliginosa gli faceva masticare le parole ed egli girava verso il dottore gli occhi globulosi in cui il mal di testa metteva lacrime sua moglie guardava ansiosamente l'ha mutolito rio dottore essa diceva che cos'è può essere qualunque cosa ma ancora non c'è nulla di sicuro sino a stasera dieta e depurativo e che beva molto giusto appunto il portiere era divorato dalla sete rientrato in casa rio e telefonava al suo collega richard uno dei medici più importanti della città no diceva richard non ho veduto niente di straordinario niente febbre con infiammazioni locali sì sì due casi con gangli molto infiammati anormalmente ma lei sa il normale disse richard la sera in ogni caso il portiere delirava 40 gradi si lagnava dei topi i gangli si erano ancora ingrossati duri legnosi a toccarli la moglie del portiere si disperava vegliate le disse il dottore e chiamatemi se è il caso il giorno dopo 30 aprile una brezza ormai tiepida soffiava in un cielo azzurro e umido portando un effluvio di fiori dalle remote periferie la mattina i rumori delle strade sembravano più vivi più allegri del solito in tutta la nostra cittadina liberata dalla sorda apprezzione in cui era vissuta durante la settimana fu quello un giorno di rinascita persino rio rassicurato da una lettera della moglie scese con leggerezza dal portiere e infatti la mattina la febbre era caduta a 38 gradi indebolito il malato sorrideva nel letto va meglio n'è vero dottore disse sua moglie aspettiamo ancora ma a mezzogiorno la febbre era salita con un solo balzo a 40 gradi il malato delirava senza tregua ed erano ricominciati i vomiti i gangli del collo erano dolenti e a toccarli il portiere sembrava voler tenere la testa lontana il più possibile dal corpo sua moglie era seduta ai piedi del letto con le mani sopra la coperta stringendo affettuosamente i piedi del malato e guardava il dottore sentite egli disse bisogna isolarlo e tentare una cura di eccezione telefono all'ospedale lo trasformeremo lo trasporteremo in ambulanza due ore dopo nell'ambulanza il dottore e la donna si chinavano sul malato dalla bocca ricoperta di fungosità gli uscivano brani di parole i topi egli diceva verdastro con le labbra cere le palpebre pulumbe il respiro corto intermittente scardinato dai gangli sprofondato nella cuccietta come se avesse voluto richiuderla sopra di sé o come se qualcosa venendo dal fondo della terra lo chiamasse senza tregua il portiere soffocava sotto un invisibile peso la donna piangeva non c'è più speranza dottore è morto disse rie benvenuti a quelli che si sono uniti nel frattempo ciao angi ciao paolo ciao flavio ciao nilde benvenuta dorotea brani di parole bellissima immagine sì sicuramente le immagini che riesce a creare sono molto vivide qui avete notato che segue addirittura un ordine cronachistico è partito dal 16 aprile 18 poi 25 30 del resto l'obiettivo lo dice lo dirà anche più volte nel corso del testo è quello di rendere una cronaca di quella sfortunata epidemia quindi il dottore ripercorre esattamente giorno per giorno quello che è accaduto e abbiamo visto come anche per esempio nel capitolo dei promessi sposi che abbiamo letto tempo fa proprio dedicato alla peste a milano l'analisi la cronaca dei primi giorni dell'arrivo di un'epidemia di come magari questa epidemia è stata non interpretata o sottovalutata sia importante e quindi la prosecuzione giorno per giorno e anche questo dare le date precise è importante per capire quanto tempo ci ha messo una in questo caso una pestilenza a diffondersi come è stata affrontata all'inizio quando è stata interpretata nel modo corretto quanto è stata presa seriamente o sottovalutata paolo la città l'aveva detta all'inizio ed è orano era una parte iniziale che io ho saltato ovviamente sto facendo dei tagli perché il romanzo è molto lungo comunque lo dice subito che orano la città sulla costa algerina insieme al luogo la città di orano diceva anche l'anno che vi ho detto lui scrive 1940 con i puntini puntini quindi non va a precisare quale anno della decade degli anni 40 la morte del portiere si può dire segnò la fine di questo periodo pieno di segni sconcertanti e il principio di un altro relativamente più difficile in cui la sorpresa dei primi tempi si trasformò a poco a poco in panico isolato il corpo del portiere aveva telefonato a richard per interrogarlo su quelle febbri inguinali non ci capisco niente aveva detto richard due morti uno in 48 ore l'altro in tre giorni l'ultimo una mattina lo avevo lasciato con tutti i segni della convalescenza mi avverta se le capitano altri casi disse rieu chiamò poi alcuni altri medici condotta in questo modo l'inchiesta gli diede una ventina di casi simili in pochi giorni quasi tutti erano stati mortali domandò allora a richard segretario del sindacato dei medici di orano l'isolamento dei nuovi malati ma io non ci posso fare nulla disse richard ci vorrebbero delle misure prefettizie d'altronde chi le dice che ci sia un rischio di contagio niente me lo dice ma i sintomi sono preoccupanti richard tuttavia insisteva che lui non era autorizzato tutto quanto poteva fare era di parlarne con il prefetto la stampa così pettegola nella faccenda dei sorci non parlava più gli è che i sorci morivano per la strada e gli uomini nella loro camera e giornali non si occupano che della strada ma la prefettura e il municipio cominciarono a consultarsi per tutto il tempo che ogni medico non aveva avuto conoscenza di più di due o tre casi nessuno aveva pensato di muoversi ma infine bastò che qualcuno pensasse a far la somma la somma era paurosa in pochi giorni appena i casi mortali si moltiplicarono e fu palese a quelli che si preoccupavano dello strano morbo che si trattava di una vera epidemia fu il momento scelto da castel un collega di rio molto più anziano di lui per andare a trovarlo naturalmente gli disse lei sa che cos'è rio aspetto il risultato delle analisi io lo so e non ho bisogno di analisi ho fatto una parte della mia carriera in cina e ho veduto alcuni casi a parigi una ventina di anni or sono soltanto non si è osato darle un nome al momento l'opinione pubblica è cosa sacra niente terrore soprattutto niente terrore e poi come diceva un collega è impossibile tutti sanno che è scomparsa dall'occidente sì tutti lo sapevano all'infuori dei morti su via rio lei lo sa bene quanto me di che cosa si tratta rio rifletteva dalla finestra dell'ufficio guardava il dorso petroso della scogliera chiudersi sulla baia in lontananza il cielo sebbene azzurro aveva uno splendore opaco che si addolciva via via col progredire del pomeriggio sì castel e gli disse è appena credibile ma pare proprio che sia la peste alzato si castel si diresse alla porta lei sa cosa ci risponderanno disse il vecchio dottore è scomparsa da anni dai climi temperati che cosa significa sparire rispose rio alzando le spalle sì e ricordi anche a parigi quasi vent'anni or sono beh speriamo che oggi non sia più grave di allora ma è davvero incredibile dunque un collega più anziano castel va a trovare rio e dice quello che nessuno ha ancora il coraggio di dire cioè quello che sta accadendo è un'epidemia di peste sebbene ormai da tempo si pensi che la peste sia una malattia scomparsa dai climi temperati scomparsa dall'occidente questo dottore è stato per anni in cina l'ha vista e dice addirittura che soltanto 20 anni prima si era avuto anche a parigi quindi in pieno occidente è semplicemente che nessuno ha il coraggio di usare questo nome perché spaventa e non bisogna mai terrorizzare l'opinione pubblica dunque viene fuori questo nome finalmente emerge il nome la diagnosi la parola peste era stata pronunciata per la prima volta i flagelli in vero sono una cosa comune ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa nel mondo ci sono state in egual numero pestilenze e guerre e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati il dottor rieu era impreparato come lo erano i nostri concittadini e in tal modo vanno intese le sue esitazioni in tal modo va inteso anche come egli sia stato diviso tra l'inquietudine e la speranza quando scoppia una guerra la gente dice o non durerà è una cosa troppo stupida e non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida ma questo non le impedisce di durare la stupidaggine insiste sempre ci se ne accorgerebbe se non si pensasse sempre a se stessi i nostri concittadini al riguardo erano come tutti quanti pensavano a se stessi in altre parole erano degli umanisti non credevano ai flagelli il flagello non è commisurato all'uomo ci si dice quindi che il flagello è irreale è un brutto sogno che passerà ma non passa sempre e di cattivo sogno in cattivo sogno sono gli uomini che passano e gli umanisti in primo luogo in quanto non hanno preso le loro precauzioni i nostri concittadini non erano più colpevoli di altri dimenticavano di essere modesti ecco tutto e pensavano che tutto era ancora possibile per loro il che supponeva impossibili i flagelli continuavano a concludere affari a preparare viaggi avevano delle opinioni come avrebbero pensato alla peste che sopprime il futuro i mutamenti di luogo e le discussioni essi si credevano liberi e nessuno sarà mai libero sino a tanto che ci saranno i flagelli questo è uno dei tanti brani all'interno del romanzo in cui ci sono delle considerazioni che veramente potrebbero essere prese riportate messe come articolo del quotidiano di oggi con la data di oggi e sarebbero altrettanto validi qui le riflessioni che il narratore mette ovviamente nella testa del dottor rio che è stato il primo ad avere il coraggio di dire la parola test peste ma è lui stesso il primo a non crederci ma perché questo accade perché nessuno di noi è mai pronto a un flagello ad una guerra sebbene flagelli e guerre siano sempre accaduti nella storia siamo sempre impreparati pensiamo sempre che non possa accadere o che non tocchi noi o che non durerà e quindi non ci prepariamo ma questo ci spiega camus è dovuto alla abitudine di pensare sempre a se stessi cioè all'egoismo perché se noi guardassimo invece intorno se mettessimo insieme i pezzi se unissimo gli elementi che abbiamo forse avremmo subito una consapevolezza di quello che ci accade invece siamo chiusi in noi stessi qui dice gli abitanti pensavano a se stessi erano degli umanisti nel senso che filosofeggiavano non credevano ai flagelli e invece i flagelli accadono e ci tolgono la libertà gli abitanti di orano si credevano liberi ma invece nessuno sarà mai libero finché ci saranno i flagelli ripeto questo romanzo che è uscito nel 47 è avuto un subito un grandissimo successo è stato immediatamente messo in relazione come era semplice scontato che fosse con quello che era appena accaduto quindi quando si parla qui di libertà o di egoismo o di flagello è facile pensare a ciò che l'Europa ha appena vissuto negli anni 40 quindi il secondo conflitto mondiale ma quello che qui viene espresso può essere sicuramente valido per ogni circostanza in cui ci troviamo a vivere una condizione di guerra di minaccia di flagello o di pestilenza persino dopo che il dottor ebbe riconosciuto davanti all'amico suo che un gruppo di malati senza preavviso era morto di peste il pericolo rimaneva irreale per lui semplicemente quando si è medici ci si è fatta un'idea del dolore e si ha un po più di fantasia guardando dalla finestra la sua città che non era mutata appena appena il dottore sentiva nascere in sé quel lieve scoramento davanti al futuro che si chiama inquietudine cercava di radunarsi in mente quello che sapeva della malattia delle cifre gli ondeggiavano nella memoria e si diceva che la trentina di grandi pestilenze conosciute dalla storia aveva fatto quasi 100 milioni di morti ma che cosa sono 100 milioni di morti quando si fa la guerra appena appena si sa che cosa sia un morto e siccome un uomo morto non ha peso che quando lo si è veduto 100 milioni di cadaveri sparsi di traverso la storia non sono che una nebbia nella fantasia il dottore ricordava la peste di costantinopoli che secondo procopio aveva fatto diecimila vittime in un giorno diecimila morti fanno cinque volte il pubblico di un grande cinematografo ecco bisognerebbe fare questo radunare le persone all'uscita di cinque cinematografi condurle in una grande piazza della città farle morire in mucchio per vederci un po chiaro almeno si potrebbero mettere dei visi noti su quel cumulo anonimo ma naturalmente è impossibile fare questo e poi chi conosce diecimila visi d'altronde uomini come procopio non sapevano contare la cosa è notoria a canton 70 anni or sono 40 mila topi erano morti di peste prima che il flagello si interessasse degli abitanti ma nel 1871 non c'era il modo di contare i topi si facevano i calcoli approssimativamente all'ingrosso con evidenti probabilità di errore ma il dottore si spazientiva si lasciava andare ed era male pochi casi non fanno un'epidemia basta prendere delle precauzioni è vero che la padola peste era stata pronunciata è vero che in quello stesso minuto il flagello scuoteva o abbatteva una o due vittime ma insomma non si poteva fermare quello che bisognava fare era riconoscere chiaramente quello che doveva essere riconosciuto cacciare infine le ombre inutili e prendere le misure necessarie il dottore aprì la finestra il brusio della città si accrebbe all'improvviso da un'officina poco distante saliva il sibilo breve ripetuto di una sega meccanica rio si scosse là era la certezza nel lavoro di ogni giorno il resto era appeso a fili a movimenti insignificanti non ci si poteva fermare l'essenziale era fare bene il proprio mestiere questi sono i pensieri del dottor rio e così come ce li riporta il narratore che poi ovviamente è sempre lo stesso rio e soltanto che racconta tutto quanto in terza persona ed è molto significativo quando il dottore cerca di capire dentro di sé di dare una una verità a questa padola che lui stesso ha tirato fuori a questa diagnosi di peste ma che cos'è la peste quanti morti produce 10.000 nella peste di costantinopoli 80.000 topi o 10 milioni di morti in tutte le pestilenze della storia ma quanti sono se noi non riusciamo a dare un volto ai morti quei numeri per noi diventano insignificanti possono essere 10 100 mille rimane un numero una fantasia una nebbia nella fantasia riusciamo a dare una concretezza una verità e a sentire come reali soltanto le morti alle quali riusciamo a dare un volto che sia rica è molto attuale anche oggi parlano di morti a migliaia anche al di là della pandemia eppure non si batte ciglio quasi perché sono solo numeri una sua fazione globale non so se una sua fazione globale ma è proprio il punto è questo se non riusciamo a dare un nome a quel a quelle morti un volto a quelle morti per noi rimangono concetti astratti giusi certo noi non abbiamo conosciuto la guerra per fortuna questa epidemia è terribile comunque ci mette vicino a questa condizione anche al fatto di non poter fare tante cose che davamo per scontati questo ci fa molto riflettere sicuramente in questi in questi settimane ormai di quarantena dunque nella città di orano è stato fatto la diagnosi è stato il primo a identificare un caso di peste che è stato il suo portiere il portiere del suo stabile morto per avere toccato ripetutamente questi topi che cercava di spazzare via ed è stato lui il primo ad avere il coraggio di dare un nome a questa diagnosi allora come ha detto il rappresentante del sindacato dei medici dottor richard non si può fare nulla se non sono le autorità ad agire quindi riesce a convincere il prefetto a riunire un comitato in questo comitato riunito in prefettura il prefetto è ancora cauto e tutte le autorità sono scettiche su quello che rio cerca di comunicare loro perché non tutti i medici sono d'accordo non sono ancora arrivate le indagini le analisi di laboratorio quindi ci sono ovvero tutti i sintomi che sembrano essere quelli della peste così come i manuali di medicina la presentano ma non ci sono i dati medici certi non c'è la certezza dell'analisi allora non vogliono creare allarmismi non vogliono spaventare la popolazione alla fine riescono a trovare una mediazione come spesso capita nei tavoli della burocrazia giocando sulle parole per cui si stabilisce che la prefettura darà delle disposizioni per la salute pubblica scrivendo non che c'è una peste una pestilenza ma dicendo che si hanno queste disposizioni come se come se ci fosse un'epidemia di peste questa espressione che un po' una via di mezzo accontenta tutti e quindi vengono pubblicati dei manifesti dei volantini in cui la prefettura ordina delle misure cautelative a tutta la popolazione il giorno dopo la seduta la febbre fece un altro lieve balzo la notizia passò nei giornali ma sotto una forma benevola si accontentarono di qualche allusione in ogni caso due giorni dopo la seduta rio poteva leggere certi manifestini bianchi che la prefettura aveva fatto rapidamente incollare negli angoli più discreti della città era difficile ricavare da tali avvisi la prova che le autorità guardavano in faccia la situazione le misure non erano draconiane e sembrava che si fosse molto sacrificato al desiderio di non preoccupare l'opinione pubblica l'esordio del decreto annunciava infatti che alcuni casi di una febbre perniciosa di cui non si poteva ancora dire se fosse infettiva si erano manifestati nel comune di orano non erano caratterizzati sino ad essere davvero preoccupanti e non vi era dubbio che la popolazione avrebbe saputo mantenere il suo sangue freddo ciò nonostante in uno spirito di prudenza che poteva essere inteso da tutti il prefetto prendeva alcune misure preventive capite e applicate come dovevano essere queste misure erano tali da fermare di colpo ogni minaccia di epidemia di conseguenza il prefetto non dubitava minimamente che i suoi amministrati avrebbero recato la più devota collaborazione al suo sforzo personale l'avviso annunciava poi le misure collettive tra le quali una derattizzazione scientifica con iniezioni di gas tossico nelle fogne e una stretta sorveglianza delle forniture d'acqua raccomandava agli abitanti un'estrema pulizia ed invitava gli infestati dalle pulci a presentarsi nei dispensari municipali d'altra parte le famiglie dovevano obbligatoriamente denunciare i casi diagnosticati dal medico e consentire all'isolamento dei malati in particolari sale dell'ospedale queste sale erano attrezzate per curare i malati in un minimo tempo e col massimo di probabilità di guarigione alcuni articoli supplementari imponevano la disinfezione per la stanza del malato e per il veicolo di trasporto quanto al resto ci si limitava a raccomandare ai congiunti di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria le misure decretate erano insufficienti era ben chiaro quanto alle sale particolarmente attrezzate rio sapeva come fossero due padiglioni sgombrati in fretta da altri malati con le finestre tappate isolati da una cintura sanitaria se l'epidemia non si fermava da sola non sarebbe stata vinta dalle misure scogitate dall'amministrazione in tre giorni infatti i due padiglioni si riempirono richard credeva di sapere che si stava sgombrando una scuola in previsione di un ospedale ausiliario rio aspettava i vaccini e apriva i buboni castel tornava ai suoi vecchi libri e faceva lunghe soste in biblioteca i topi sono morti di peste o di qualcosa che le somiglia molto concludeva hanno messo in circolazione decine di migliaia di pulci che trasmettono il contagio secondo una proporzione geometrica se non lo si ferma in tempo rio taceva a quest'epoca sembrò che il tempo si ristabilisse il sole asciugava le pozzanghere delle ultime piogge i bei cieli azzurri traboccanti di luce gialla i ronzii degli arioplani nei primi calori tutto nella stagione invitava alla serenità in quattro giorni tuttavia la febbre fece un balzo straordinario 16 morti 24 28 32 il quarto giorno si annunciò l'apertura dell'ospedale ausiliario in una scuola materna i nostri concittadini che sino a qui avevano continuato a dissimulare l'inquietudine sotto gli scherzi sembravano per le strade più abbattuti e silenziosi paudo la burocrazia ci scontra con la scienza allora vedete come in realtà le misure prese non sono state sufficienti e i numeri avanzano e della progressione dei numeri che dà l'ordine di grandezza della pestilenza e dà poi il senso di gravità quanto siamo abituati noi adesso ormai da un mese e mezzo quasi due a sentire i numeri tutti i giorni che aumentano adesso per fortuna diminuiscono e questo ci sembra essere la misura della pestilenza nel caso di camus o della dell'epidemia nel caso della situazione che viviamo oggi questi numeri che sembrano un bollettino qui nel romanzo che danno il segno di questa cronaca danno però anche il senso dell'avanzamento della pestilenza e della lentezza con cui le autorità rispondono a questa pestilenza anche qui si apre un ospedale ausiliario i padiglioni che erano stati liberati in fretta e furia per fare spazio a questi malati speciali non sono bastati bisogna aprire un ospedale speciale tutto dedicato a loro che non è altro che una scuola materna sgombrata quanto è simile questa rappresentazione questa parte del romanzo queste scene quanto sono simili alla nostra attualità esatto giusi è terribilmente attuale rio decise di telefonare al prefetto le misure sono insufficienti ho le cifre disse il prefetto e davvero sono preoccupanti sono più che preoccupanti sono chiare chiederò ordini al governo centrale e i sieri arriveranno in settimana la prefettura con richard per intermediario domandò a rio una relazione destinata ad essere mandata nella capitale della colonia per sollecitare gli ordini rio vi mise una descrizione clinica e le cifre in quello stesso giorno si contò una quarantina di morti il prefetto prese su di sé come diceva lui di aggravare dal giorno seguente le misure prescritte la denuncia obbligatoria e l'isolamento furono mantenuti le case dei malati dovevano essere chiuse disinfettate e i congiunti sottoposti ad una quarantena di sicurezza i seppellimenti organizzati dalla città il giorno dopo i sieri arrivarono per via aerea potevano bastare per i casi in cura erano insufficienti se il contagio si fosse esteso al telegramma di rio fu risposto che il deposito di sicurezza era esaurito e che erano cominciate le nuove confezioni loro a differenza di noi avevano il vaccino avevano il siero e rio aveva subito chiesto che fossero mandati i sieri arrivano ma sono pochi perché il magazzino centrale non è che ne avesse poi molti del resto avevano già detto anche il dottor castello l'anziano medico aveva detto la pesta ormai viene considerata una malattia che non esiste più nell'occidente quindi perché il magazzino centrale dei farmaci dovrebbe avere chissà quanto siero per per il vaccino nel frattempo i trame erano sempre pieni nelle ore di punta vuoti e sporchi durante il giorno la sera la stessa folla riempiva le strade e le code si allungavano davanti ai cinematografi d'altronde il contagio sembrò retrocedere e per alcuni giorni si contò soltanto una decina di morti poi all'improvviso si impennò il giorno in cui la cifra dei morti toccò la trentina bernard rieu guardava il dispaccio ufficiale che il prefetto gli aveva passato il dispaccio recava si dichiari lo stato di peste la città sia chiusa ecco dunque il prefetto ha chiesto come comportarsi alla capitale della della provincia e la paura è arrivata forse prima fuori dalla città che non dentro e la paura che questa malattia strana che ormai sta dilagando nella città di orano possa contagiare anche il resto spinge le autorità centrali a fare quello che il prefetto non ha avuto il coraggio di fare cioè dichiarare lo stato di peste ma dichiarare lo stato di peste significa chiudere la città nessuno può entrare nessuno può uscire quella che noi oggi siamo ormai così consueti a questo termine sappiamo chiamare zona rossa nessuno può entrare nessuno può uscire cambia completamente la vita all'interno della cittadina da questo momento in poi si può dire che la peste fu cosa nostra di tutti sino a qui nonostante lo stupore le inquietudine suscitati da quei singolari avvenimenti ciascuno dei nostri concittadini aveva proseguito le sue occupazioni come gli era stato possibile al suo solito posto e certamente questo doveva continuare ma una volta chiuse le porte si accorsero di essere tutti e anche lo stesso narratore presi nel medesimo sacco che bisognava cavarsela in tal modo ad esempio un sentimento si individuale come la separazione da una persona cara diventò subito sin dalle prime settimane lo stesso di tutto un popolo e insieme con la paura la principale sofferenza di quel lungo periodo d'esilio una delle conseguenze più notevoli della chiusura delle porte fu infatti la subitanea separazione in cui si trovarono persone che non vi erano preparate madri figli sposi amanti che avevano creduto alcuni giorni prima di procedere ad una temporanea separazione che si erano abbracciati sulla banchina della nostra stazione con due o tre raccomandazioni sicuri di rivedersi pochi giorni o poche settimane dopo affondati nella stupida fiducia umana appena distratti per quella partenza dalle loro abituali preoccupazioni si videro di colpo allontanati senza rimedio impediti di raggiungersi o di comunicare la chiusura era stata fatta alcune ore prima che il decreto prefettizio fosse pubblicato e naturalmente era impossibile prendere in considerazione i casi particolari si può dire che questa invasione brutale della malattia ebbe per primo effetto di costringere i nostri concittadini ad agire come se non avessero sentimenti individuali nelle prime ore del giorno in cui il decreto entrò in vigore la prefettura fu assediata da una folla di postulanti che al telefono o presso i funzionari esponevano situazioni ugualmente interessanti e nello stesso tempo ugualmente impossibili da esaminare in verità ci vollero parecchi giorni prima che ci rendessimo conto di trovarci in una situazione senza compromesso in cui le parole transigere favore eccezione non avevano più significato anche la piccola soddisfazione di scrivere ci fu negata d'altronde la città non era più collegata col resto del paese per mezzo delle comunicazioni abituali ordinarie e inoltre un nuovo decreto vietò lo scambio di ogni corrispondenza per evitare che le lettere potessero diventare veicoli di contagio ecco dunque la città viene chiusa e le persone si trovano separate quando non pensavano di esserlo perché chi è uscito non può rientrare e chi doveva partire deve rimanere la distanza questa distanza forzata è ciò che colpisce e la superficialità magari con la quale noi ci separiamo convinti di poterci riunire in qualsiasi momento di poterci riabbracciare di poterci di nuovo parlare e quando invece accade qualcosa di straordinario come in questo caso allora emerge la distanza la sofferenza che ci crea questa separazione e qui l'autore dice diventa comune questa condizione diventa comune ed è il primo momento no prima ha parlato di egoismi ha parlato di persona di persone cittadini chiusi in se stessi che pensano soltanto alla propria condizione invece questa separazione obbliga a guardarsi intorno e a vedere che siamo tutti insieme in questo in questo male in questa sofferenza in questi anni stiamo negli anni 40 ovviamente le comunicazioni non sono quelle attuali quindi non c'è internet non ci sono le videochiamate semplicemente le persone si trovano separate addirittura il prefetto blocca la corrispondenza via posta perché le lettere possono essere veicolo di contagio una cosa che la prefettura però ha fatto bene in tanti magari errori di sottovalutazione che ha commesso prima è di dare attuazione al provvedimento prima di comunicarlo quindi prima vengono chiuse le porte della città viene bloccato tutto e dopo viene emesso viene reso pubblico il decreto in modo che le persone non possano più agire infatti molti corrono agli uffici chiedono fammi uscire io ho un caso speciale fai un'eccezione non è possibile fare eccezioni la malattia colpisce tutti e quindi la regola deve valere per tutti allora non si può nemmeno scrivere una lettera che cosa resta resta il telefono e restano i telegrammi le comunicazioni telefoniche interurbane autorizzate sul principio provocarono tali ingombri nelle cabine pubbliche e sulle linee che furono sospese del tutto per alcuni giorni poi limitate a quelli che si denominavano i casi urgenti come la morte la nascita e il matrimonio i telegrammi restarono allora la nostra unica risorsa creature legate dalla mente dal cuore dalla carne furono ridotte a cercare i segni dell'antica comunione nelle maiuscole di un dispaccio di dieci parole e siccome infatti le formule che si possono adoperare in un telegramma sono presto esaurite lunghe vite in comune o dolorose passioni si riassunsero rapidamente in uno scambio periodico di formule belle fatte come sto bene punto penso a te punto saluti affettuosi punto la prima cosa che la peste recò ai nostri concittadini fu insomma l'esilio ben era il sentimento dell'esilio quel vuoto che portavamo costantemente con noi quella precisa emozione il desiderio irragionevole di tornare indietro o invece di affrettare il cammino del tempo queste due ardenti frecce della memoria se talvolta ci si lasciava andare alla fantasia e ci si illudeva di aspettare la scampanellata del ritorno o un passo familiare per le scale se in quei momenti si era d'accordo nel dimenticare che i treni erano immobili se ci disponeva allora a restare in casa nell'ora in cui normalmente un viaggiatore portato dal diretto poteva giungere nel nostro quartiere tali giochi beninteso non potevano durare veniva sempre il momento in cui ci si accorgeva chiaramente che i treni non arrivavano sapevamo allora che la nostra separazione era destinata a durare e che dovevamo cercare di venire a patti con il tempo provavamo quindi la profonda sofferenza di tutti i prigionieri e di tutti gli esiliati che è vivere con una memoria che non serve a nulla impazienti del proprio presente nemici del proprio passato e privi di futuro somigliavamo a coloro che la giustizia o l'odio degli uomini fa vivere dietro le sbarre insomma il solo mezzo per sfuggire ad una tale insopportabile vacanza era quello di far correre i treni con la fantasia e di colmare le ore con i ripetuti rintocchi di un campanello sebbene ostinatamente silenzioso mentre i nostri concittadini cercavano di adattarsi al subitaneo esilio la peste metteva guardie alle porte e sviava i bastimenti che facevano rotta verso orano dopo la chiusura non un veicolo era entrato in città anche il porto offriva un aspetto singolare a chi lo guardasse dall'alto dei viali la consueta animazione che ne faceva uno dei primi porti della costa si era spenta all'improvviso vi si vedevano ancora poche navi tenute in quarantena ma sulle banchine le grandi gru in disarmo i vagoncini rovesciati sul fianco i mucchi solitari di casse o di sacchi testimoniavano che perfino il commercio era morto di peste ancora quanto sono attuali queste immagini di un'attività commerciale che si ferma di una città che è immobilizzata questo senso di esilio di distacco quasi di essere condannati come i carcerati bloccati dietro le sbarre quanto è attuale tutta questa descrizione nonostante tali spettacoli insoliti i nostri concittadini apparentemente faticavano a capire quello che gli era capitato c'erano i sentimenti comuni quali la separazione la paura ma si continuavano anche a mettere in prima linea le personali preoccupazioni nessuno ancora aveva realmente accettato la malattia per la maggior parte erano soprattutto sensibili a quello che turbava le loro abitudini o toccava i loro interessi ne erano urtati o irritati e non sono questi sentimenti che si possono opporre alla peste la prima reazione ad esempio fu di accusare l'amministrazione la risposta del prefetto alla presenza dei critici a cui la stampa faceva eco non si potrebbe prospettare un'attenuazione delle misure scogitate fu del tutto impreveduta sino ad allora né i giornali né l'agenzia ransdoc avevano ricevuto comunicazione ufficiale delle statistiche della malattia giorno per giorno il prefetto le comunicò all'agenzia pregandola di farne un annuncio settimanale anche qui tuttavia la reazione del pubblico non fu immediata infatti l'annuncio che nella terza settimana di peste si erano contati 302 morti non parlava alla fantasia d'altronde non tutti forse erano morti di peste inoltre nessuno in città sapeva quante persone morissero alla settimana in tempi normali la città aveva 200 mila abitanti si ignorava se la proporzione dei decessi era quella solita anche questo è un genere di precisazioni di cui non ci si cura mai nonostante il palese interesse che presentano il pubblico mancava in qualche maniera di punti di riferimento soltanto più tardi constatando l'aumento dei decessi l'opinione prese coscienza della verità la quinta settimana diede infatti 321 morti e la sesta 345 gli aumenti parlavano chiaro ma non erano forti al punto che i nostri concittadini non conservassero in mezzo all'inquietudine l'impressione che si trattava di un accidente noioso certo ma dopo tutto temporaneo e continuavano a circolare per le strade a mettersi ai tavolini esterni dei caffè verso la fine del mese tuttavia il prefetto prese alcune misure relative alla circolazione dei veicoli e al vettovagliamento che fu limitato alla razione essenziale furono anche prescritte economie di elettricità soltanto i prodotti indispensabili giunsero a urano per via di terra e di aria allora si vide la circolazione diminuire progressivamente sino a diventare pressoché nulla lisa mamma mia meno male che noi abbiamo internet per qualsiasi tipo di messaggio scritto audio video lungo o corto e non contagioso certo provate a immaginare questa questa situazione non possono scriversi lettere perché la lettera può essere veicolo di contagio non possono più nemmeno telefonare perché le linee sono poche intasate l'unica forma di comunicazione con l'esterno rimane il telegramma che ovviamente è un testo breve e limitato con delle espressioni spesso ripetute fisse che non dando la lo spessore del sentimento dell'emozione ma soprattutto che non possono raccontare la quotidianità in tutto questo però vedete che ancora nel primo mese la popolazione non ha ancora capito in molti continuano ad uscire vanno ancora al cinema vanno al caffè e anche quando vengono dati finalmente i dati questi numeri all'inizio non sono capiti tu mi dai i numeri dei morti va bene però di solito quanti ne muoiono io non lo so quindi questo numero deve essere inteso in che modo è diverso è anomalo fammi capire quando poi i numeri vengono dati settimana dopo settimana allora lì sì che emerge la verità perché se il numero singolo non può essere capito perché non ha punti di riferimento non ha confronti i numeri in sequenza creano una progressione un aumento evidente e questo rende evidente la malattia tuttavia ci vogliono ancora misure che arrivano dall'alto quindi è l'autorità ancora che deve imporsi perché nella popolazione prevale sì c'è una paura c'è un'inquietudine però prevale la considerazione dei propri interessi io continuo ad uscire io continuo a fare io continuo a lavorare soltanto quando arrivano le misure severe imposte dall'alto allora la situazione cambia il prefetto limita la circolazione dei veicoli limita l'uso dell'elettricità quindi le ore di illuminazione sono limitate e vengono razionate anche le derrate quindi il vettovagliamento della città è ridotto tutto questo noi per fortuna oggi non lo stiamo vivendo però ricordiamoci quanti periodi in passato di guerra di pestilenza hanno dovuto convivere con queste limitazioni ci rimane i segnali di fumo allora forse sì però non so quanto potessero essere validi rie dirigeva l'ospedale ausiliario aveva fatto disporre in un locale che dava nella sala dei consulti una stanza di accettazione in una infossatura del pavimento l'acqua fenicata formava un lago al cui centro vi era un isolotto di mattoni il malato era trasportato in quell'isola rapidamente svestito e i suoi abiti cadevano nell'acqua lavato asciugato coperto con la ruvida camicia dell'ospedale passava nelle mani di rie poi lo si trasportava in una delle sale si era stati costretti ad usare le aule di una scuola che conteneva adesso e in tutto 500 letti quasi tutti occupati dopo l'accettazione della mattina che dirigeva lui stesso vaccinati i malati incisi i buoni rie controllava ancora le statistiche e tornava poi ai consulti nel pomeriggio in serata poi faceva le sue visite tornando tardi la notte ma le visite ad esempio gli diventavano insopportabili diagnosticare la febbre epidemica significava far portare via rapidamente il malato allora cominciavano davvero l'astratto e il difficile la famiglia del malato sapeva che non avrebbe più veduto quest'ultimo se non guarito o morto bisognava telefonare e in breve risuonava la campana dell'ambulanza i vicini in principio aprivano le finestre per guardare poi le chiudevano precipitosamente allora cominciavano le lotte le lacrime la persuasione insomma l'astratto in cui gli appartamenti surriscaldati dalla febbre dall'angoscia si svolgevano scene di pazzia ma il malato era condotto via rio poteva andarsene alla fine di questa lunga teoria di sere tutte simili rio non poteva sperare nient'altro che una lunga teoria di scene uguali ricominciate all'infinito sì la peste come l'astratto era monotona una sola cosa forse mutava ed era lo stesso rio dopo quelle settimane spossanti dopo tutti quei crepuscoli in cui la città si riversava nelle strade per girarvi intorno rio capiva che non aveva più da difendersi contro la pietà ci si stanca della pietà quando la pietà è inutile e nella sensazione del suo cuore chiuso lentamente su se stesso il dottore trovava l'unico sollievo alle massacranti giornate sapeva che il suo compito ne sarebbe stato facilitato per questo ne era contento per lottare contro l'astratto bisogna un po' somigliargli ma dove alcuni vedevano l'astratto altri vedevano la verità la fine del primo mese di peste infatti fu rattristata da una forte recrudescenza dell'epidemia e da una veemente predica di padre panelu il gesuita che aveva assistito il vecchio michel al principio della malattia ora verso la fine di questo mese le autorità ecclesiastiche della nostra città decisero di lottare contro la peste con i loro propri mezzi organizzando una settimana di preghiere collettive tali manifestazioni della pietà pubblica dovevano terminare la domenica con una messa solenne sotto il patronato di san rocco il santo appestato per l'occasione si era domandato a padre panelu di prendere la parola di natura focosa e appassionata egli aveva risolutamente accettato l'incarico che gli si affidava molto tempo prima della predica se ne parlava in città ed egli segnò alla sua maniera una data importante nella storia di questo periodo la settimana fu seguita da un pubblico numeroso e la domenica una folla considerevole invase la navata traboccandosi nel vestibolo e sugli ultimi gradini dalla vigilia il cielo si era oscurato la pioggia cadeva a scrosci quelli che stavano fuori avevano aperto gli ombrelli un odore di incenso di stoffa bagnata ondeggiava nella cattedrale quando padre panelu montò sul pulpito era di corporatura media ma robusto quando si appoggiò all'orlo del pulpito stringendo il legno tra le grosse mani non si vide di lui che una forma spessa e nera cui sovrastavano le due macchie delle guance rubiconde sotto gli occhi di metallo aveva una voce forte appassionata che si sentiva da lontano e quando attaccò con una sola frase vehemente e martellata fratelli miei voi siete nella sventura fratelli miei voi lo avete meritato un fremito percorse l'uditorio sino al vestibolo panelu subito dopo quella frase citò il testo dell'esodo relativo alla peste in egitto e disse la prima volta che il flagello appare nella storia è per colpire i nemici di dio faraone si oppone ai segni eteri e la peste lo fa cadere in ginocchio dal principio di ogni storia il flagello di dio mette ai suoi piedi gli orgogliosi e gli accecati meditate e cadete in ginocchio di fuori la pioggia raddoppiava e quest'ultima frase pronunciata in mezzo ad un silenzio assoluto reso ancora più profondo dal crepitio dell'acquazione sulle vetrate e che giò con tale accento che alcuni ascoltatori dopo un attimo di incertezza si lasciarono scivolare dalla sedia sull'inginocchiatoio altri credettero che bisognasse seguirne l'esempio sicché da un vicino all'altro senza altro rumore che lo scricchiolio di qualche sedia in breve tutto l'uditorio si trovò in ginocchio allora panelu raddrizzatosi respirò profondamente e ricominciò in un tono sempre più accentuato se oggi la peste vi guarda vuol dire che il momento di riflettere è venuto i giusti non possono temere ma i malvagi hanno ragione di tremare nell'immenso granaio dell'universo il flagello implacabile batterà la messe umana sino a che la paglia sia divisa dal grano ci sarà più paglia che grano ci saranno più chiamati che eletti e la sventura non è stata voluta da dio sì l'ora di riflettere è venuta voi avete creduto che vi basterebbe visitare dio la domenica per essere liberi dei vostri giorni avete pensato che alcune genuflessioni lo ripagassero abbastanza della vostra incuria criminale ma dio non è tiepido questi rari rapporti non bastano al suo divorante affetto e per questo stanco di aspettare la vostra venuta ha lasciato che il flagello vi visitasse come ha visitato tutte le città del peccato da che gli uomini hanno una storia e qui fratelli miei si manifesta la misericordia che ha messo in ogni cosa il bene e il male la collera e la pietà la peste e la salvezza lo stesso flagello che vi tormenta vi eleva e vi mostra la via ecco dunque la predica vehemente di padre panelù che fa sentire la colpa sulla cittadinanza è colpa vostra non avete amato dio abbastanza e quindi adesso dio ha lasciato che la peste vi colpisse ma in ogni cosa che dio manda c'è il bene e il male quindi nella peste nella pestilenza c'è anche la salvezza la salvezza è quella di seguire finalmente la via che il signore ci ha tracciato il giorno dopo le piogge tardive che avevano contraddistinto la domenica della predica l'estate scoppiò di colpo nel cielo al di sopra delle case i giornali pubblicarono decreti che rinnovarono il divieto di uscire e minacciavano di prigione i contravventori le pattuglie percorsero la città sovente nelle vie deserte surriscaldate si vedevano venire preannunciate dal rumore degli zoccoli sul selciato le guardie a cavallo che passavano tra due file di finestre chiuse di tanto in tanto echeggiavano le fucilate di squadre speciali incaricate con recente ordinanza di uccidere i cani e i gatti che avrebbero potuto trasmettere le pulci le secche detonazioni contribuivano a mettere nella città un'aria di allarme nel caldo e nel silenzio e per il cuore atterrito dei nostri concittadini tutto assumeva una maggiore importanza ciascuno capiva con spavento che i calori avrebbero favorito il contagio e nello stesso tempo ciascuno avvertiva che l'estate si stava affermando il nuovo siero arrivato da parigi aveva l'aria di essere meno efficace del primo le statistiche salivano non sempre era possibile inoculare i sieri preventivi anche nelle famiglie non ancora contagiate sarebbero occorsi quantitativi industriali per generalizzarne l'uso la maggior parte dei buboni non si poteva incidere come se fosse venuta la stagione del loro indurimento e torturavano i malati dalla vigilia c'erano in città due casi di una nuova forma dell'epidemia la peste stava diventando polmonare nello stesso giorno durante una riunione i medici sfiniti davanti ad un prefetto disorientato avevano domandato e ottenuto nuove misure per evitare il contagio che avveniva da bocca a bocca nella peste polmonare come al solito non se ne sapeva mai niente ecco dunque che la peste evolve e da essere una peste che si diffonde per contatto passando a diventare peste polmonare diventa molto più pericolosa perché ovviamente il contagio avviene semplicemente da bocca a bocca respirando vicino il siero che era stato mandato dalla capitale della provincia era stato utile però non era stato sufficiente e il nuovo siero che viene da parigi non sembra essere sufficientemente efficace e comunque ancora non è in quantità sufficiente anche qui quanti rimandi alla nostra situazione in cui i dispositivi non sono sufficienti in cui arrivano da fuori in cui le città sono bloccate la gente non può uscire le pattuglie percorrono le strade controllando che tutti restino a casa a questo punto il dottor Rieu riceve la visita di Tarou che è un francese che era arrivato in città di cui si sapeva poco nessuno sapeva esattamente qual era il suo passato però sembrava vivere di rendita e amava seguire i ballerini spagnoli di cui c'era una nutrita comunità nella città questo Tarou si presenta dal dottor Rieu Rieu face sedere il visitatore davanti alla sua scrivania e lui rimase in piedi dietro la poltrona erano divisi dalla sua lampada accesa nella stanza sopra la scrivania so disse Tarou senza preamboli che con lei posso parlare chiaro Rieu approvò in silenzio tra quindici giorni o un mese voi medici non servirete più a nulla qui sarete superati dagli avvenimenti è vero disse Rieu l'organizzazione del servizio sanitario è cattiva mancate di uomini e di tempo Rieu di nuovo riconobbe che era la verità ho saputo che la prefettura pensa ad una sorta di servizio civile per costringere gli uomini validi a partecipare ai soccorsi lei è bene informato ma il malcontento è ormai grande il prefetto esita perché non chiedere dei volontari è stato fatto ma con magri risultati è stato fatto ma in via ufficiale un po' senza crederci io ho un progetto di organizzazione di squadre sanitarie di volontari mi autorizzi ad occuparmene lasciamo da parte l'amministrazione del resto è intasata ho amici un po' dappertutto che formeranno il primo nucleo naturalmente vi parteciperò anch'io ben inteso disse Rieu non dubiti che accetto con gioia se ha bisogno di aiuto soprattutto in questo mestiere mi incarico io di far accettare l'idea alla prefettura del resto non hanno scelta ma Rieu rifletteva ma il lavoro può essere mortale lei lo sa e in ogni caso bisogna che io l'avverta di questo ha ben riflettuto lei crede in Dio, dottore? Rieu esitò no, ma che vuol dire questo? sono nella notte, cerco di vederci chiaro da molto tempo ho finito di trovare originale la cosa perché mostra tanta devozione se non crede in Dio il dottore disse che se avesse creduto in un Dio onnipotente avrebbe trascurato di guarire gli uomini lasciandone la cura a lui ma che nessuno al mondo no, nemmeno padre Panelu che credeva di credervi credeva in un Dio di tal genere nessuno infatti si abbandonava del tutto e in questo almeno lui, Rieu credeva di essere sulla via della verità lottando contro la creazione come essa è sì, posso capire approvò Tarru ma le vostre vittorie ecco saranno sempre provvisorie Rieu sembra rattristarsi lo so sempre non è una ragione per smettere no non è una ragione ma immaginiamo allora che cosa deve essere questa peste per lei disse Tarru sì disse Rieu un'interminabile sconfitta ecco dunque che c'è una svolta Tarru propone a Rieu di formare delle squadre di volontari perché c'è bisogno di andare a prendere le persone di spostarle di portare per esempio i cadaveri al cimitero c'è bisogno di tanta gente la prefettura aveva fatto delle richieste aveva pensato anche di indire una sorta di leva obbligatoria un servizio civile obbligatorio ma Tarru dice meglio che siano dei volontari del resto è un mestiere che mette a rischio chi vi partecipa perché c'è un forte rischio di contagio ma ce n'è bisogno quindi Rieu accetta e poi c'è questo dialogo molto interessante sulla fede il dottore dice io non posso credere a un dio che salva e che cura altrimenti non farei il medico però si rende conto allo stesso tempo che di fronte a questa pestilenza il suo ruolo è quello di essere sconfitto tuttavia non c'è motivo di smettere di lottare dal giorno dopo Tarru si mise al lavoro e raccolse una prima squadra che doveva essere seguita da molte altre quelli che si votarono alle formazioni sanitarie non ebbero un sì gran merito a farlo sapevano che era la sola cosa da fare e che il non decidersi a farla questo sarebbe stato incredibile le formazioni aiutarono i nostri cittadini a penetrare nella peste e li persuasero in parte che se c'era la malattia bisognava fare il necessario per combatterla siccome la peste in tal modo diventava il dovere di alcuni apparve realmente per quello che era ossia una faccenda di tutti molti nuovi moralisti andavano allora dicendo che nella nostra città nulla nulla sarebbe servito e che bisognava mettersi in ginocchio e Tarru e Rieu e i loro amici potevano rispondere questo o quello ma la conclusione era sempre quella a loro nota bisognava lottare in questo o in quel modo e non mettersi in ginocchio tutta la questione era di impedire al maggior numero possibile di uomini di morire e di conosceve la separazione definitiva per questo non c'era che un solo mezzo combattere la peste questa verità non era ammirevole soltanto logica per questo era naturale che il vecchio castel mettesse tutta la sua fiducia e la sua energia nel confezionare dei sieri sul posto con materiale di fortuna Rieu e lui sapevano che un siero fatto con le culture del microbo stesso che infestava la città avrebbe avuto un'efficacia più diretta dei sieri venuti da fuori tale microbo infatti differiva dal microbo della peste come era classicamente definito castel sperava di avere assai presto il suo primo siero una sezione delle squadre formate da Tarru si consacrava ad un lavoro di assistenza preventiva nei quartieri sovrappopolati si cercava di introdurvi la necessaria igiene si faceva il computo dei granai delle cantine non disinfestate un'altra sezione delle squadre aiutava invece i medici nelle visite a domicilio assicurava il trasporto degli appestati e anche in seguito in assenza di personale specializzato guidò i veicoli dei malati e dei morti è in questo modo dunque che la città si prepara ad affrontare l'estate per tutto il mese di agosto la peste arriva ovunque ormai di laga ed è spinta soprattutto anche dal vento un vento secco che spazza la città e agevola il contagio la peste colpisce tutti i quartieri in questo senso è molto democratica e obbliga le autorità a imporre il coprifuoco serale così che di notte la città è veramente vuota sono proibiti anche i funerali i morti vengono portati in fretta dall'ospedale al cimitero già chiusi nella barra i parenti non possono nemmeno vedere il loro parente defunto e poi al cimitero una veloce benedizione e la barra viene interrata all'inizio si può fare così ma quando il numero dei morti aumenta ancora di più nemmeno questo è più possibile per cui nemmeno le bare sono più sufficienti per il resto la città è bloccata non c'è approvvigionamento se non di merci essenziali quindi non ci sono nemmeno più lenzuola a sufficienza per coprire i cadaveri bare a sufficienza quindi vengono i parenti non possono più partecipare a queste veloci benedizioni delle salme che si facevano al principio e semplicemente i malati i defunti vengono caricati nelle bare portati velocemente al cimitero scaricati in fosse comuni poi coperti con calce viva e le bare svuotate vengono disinfettate e riportate indietro per essere riutilizzate semplicemente come contenitori per il trasporto dei cadaveri queste squadre di volontari organizzate da Tarru che nella lettura che era stata data del testo subito dopo la sua uscita erano state assimilate alla resistenza delle squadre partigiane sono in realtà ciò che permette alla città di sopravvivere di resistere quindi sono veramente squadre di resistenza al riguardo il narratore sa perfettamente quanto sia increscioso non poter qui nulla riferire che sia veramente spettacolare come ad esempio di qualche edificante eroe o di qualche straordinario gesto simili a quelli che si trovano nei vecchi racconti gli è che nulla è meno spettacolare di un flagello e per la loro stessa durata le grandi sciagure sono monotone nel ricordo di coloro che le hanno vissute le terribili giornate della peste non figurano come grandi fiamme interminabili e crudeli ma piuttosto come un ininterrotto calpestio che tutto schiacciava al suo passaggio nessuno tra noi aveva più grandi sentimenti ma tutti provavano sentimenti monotoni e ora che finisca dicevano i nostri concittadini in periodo di flagello infatti è naturale augurarsi la fine delle sofferenze collettive e davvero essi si auguravano che finissero ma questo si diceva senza il fuoco o l'acre sentimento del principio e soltanto con alcune ragioni che ancora ci rimanevano chiare molto poche al grande e selvaggio slancio delle prime settimane era succeduto un abbattimento che si avrebbe avuto torto di prendere per rassegnazione ma che tuttavia era una sorta di provvisorio consenso i nostri concittadini si erano messi al passo si erano adattati come si dice non c'era modo di fare altrimenti avevano ancora naturalmente l'atteggiamento della sciagura della sofferenza ma non ne risentivano più la culeo d'altronde il dottor Rieu ad esempio considerava giustamente che il male era proprio questo e che l'abitudine alla disperazione è peggiore della disperazione stessa quelli che avevano un mestiere lo facevano con l'andamento stesso della peste meticolosamente e senza spicco erano tutti modesti in verità tutto per loro diventava presente bisogna dirlo la peste aveva tolto a tutti la facoltà dell'amore e anche dell'amicizia l'amore infatti richiede un po' di futuro e per noi non c'erano più che attimi mentre nei primi tempi della peste erano colpiti dalla somma di piccole cose che contavano molto per loro senza nemmeno esistere per gli altri e in tal modo sperimentavano una vita personale adesso al contrario non si interessavano che a quanto interessava gli altri non avevano più che idee generali e il loro stesso amore aveva assunto per essi l'aspetto più astratto erano abbandonati a tal punto alla peste che gli capitava talvolta di non sperare più che nel loro sonno o di sorprendersi a pensare i buboni e che la finisca ma ormai dormivano in verità e tutto quel tempo non fu che un lungo sonno durante i mesi di settembre e di ottobre la peste tende la città ripiegata su se stessa siccome si trattava di un calpestio parecchie centinaia di uomini continuarono ancora a segnare il passo per settimane che non finivano mai al principio di ottobre grandi acquazzoni spazzarono le strade e durante tutto questo tempo nulla di più importante avvenne se non quell'enorme calpestio Rieu e i suoi amici scoprirono allora sino a che punto fossero stanchi infatti gli uomini delle formazioni sanitarie non arrivavano più a digerire la fatica il dottor Rieu se ne accorgeva osservando sui suoi amici e su se stesso i progressi di una curiosa indifferenza la sua sola difesa era il rifugiarsi in questo indurimento lo stringere il nodo che si era formato in lui sapeva bene che gli sarebbe servito per andare avanti per il resto non aveva molte illusioni e la stanchezza gli toglieva quelle che ancora conservava sapeva infatti che per un periodo di cui non scorgeva il termine il suo compito non era guarire il suo compito era diagnosticare scoprire vedere descrivere registrare poi condannare questa era la sua parte era ancora una fortuna che ci fosse la stanchezza se Rieu fosse stato più fresco quell'odore di morte sparso dappertutto avrebbe potuto renderlo sentimentale ma quando non si è dormito che quattro ore non si è sentimentali si vedono le cose come sono ossia si vedono secondo la giustizia la vergognosa e ridicola giustizia dunque sono tutti molto stanchi ma la stanchezza ha un vantaggio che è quello di portare all'indifferenza al distacco dall'empatia e quindi permette di andare avanti purtroppo il siero che l'anziano dottor Castel sta cercando di idealizzare il vaccino che sta cercando di idealizzare utilizzando i materiali locali quindi utilizzando il morbo locale non funziona e le squadre però si ampliano raccolgono sempre più volontari anche padre Panelù entra a far parte delle squadre di soccorso il padre pronunciò la sua seconda predica in un giorno di grande evento a dire la verità le file degli ascoltatori erano più rade che non alla prima predica gli è che un tal genere di spettacolo non aveva più l'attrattiva della novità per i nostri concittadini nelle difficili circostanze che la città attraversava la stessa parola di novità aveva perduto significato d'altronde la maggior parte delle persone quando non avessero interamente disertato i loro doveri religiosi o quando non li facessero coincidere con una vita privata profondamente immorale avevano sostituito le pratiche ordinarie con superstizioni poco ragionevoli portavano medagliette protettive amuleti di San Rocco più volentieri che andare a messa la sera della predica quando giunse Rieu il vento che si infiltrava in sbuffi d'aria tra i battenti delle porte d'ingresso circolava liberamente tra gli ascoltatori e fu in una chiesa fredda e silenziosa in mezzo ad un uditorio composto esclusivamente di uomini che egli prese posto e vide il padre salire sul pulpito quest'ultimo parlò con un tono più dolce e più riflessivo della prima volta e a parecchie riprese gli astanti notarono una certa esitazione nel suo discorso altra cosa curiosa egli non diceva più voi ma noi ciò nonostante la sua voce a poco a poco diventò ferma cominciò con ricordare che da lunghi mesi la peste era in mezzo a noi e che ora conoscendola noi meglio per averla veduta tante volte sedersi alla nostra tavola o al capezzale dei nostri cari camminarci accanto e aspettare la nostra venuta nei luoghi del lavoro proprio ora forse avremmo potuto accogliere meglio quello che ci diceva senza tregua e che nella prima sorpresa era possibile che non avessimo ben ascoltato in ogni cosa c'era sempre da imparare la prova più crudele era ancora benefica per il cristiano e giusto appunto quello che il cristiano nella fattispecie doveva cercare era il suo beneficio e di che il beneficio era fatto e come si poteva trovarlo non bisognava tentare di spiegare lo spettacolo della peste ma cercare di imparare quello che si poteva imparare bisognava soltanto cominciare a camminare in avanti nelle tenebre un po' alla cieca e tentare di fare del bene ma per il resto bisognava restare e accettare di rimettersene a Dio anche per la morte dei bambini e senza cercare un personale ausilio fratelli miei disse infine padre Panelù annunciando che stava per concludere l'amore di Dio è un amore difficile suppone un totale abbandono di se stessi e il disprezzo per la propria persona ma lui solo può cancellare la sofferenza e la morte dei bambini lui solo in ogni caso può renderla necessaria in quanto è impossibile capirla ecco la difficile lezione che volevo dividere con voi ecco la fede crudele agli occhi degli uomini decisiva agli occhi di Dio a cui bisogna avvicinarsi a questa terribile immagine bisogna che ci adeguiamo in cima tutto si confonderà e si eguaglierà la verità sorgerà dalle ingiustizie apparente molto diversa questa seconda predica di padre panelu rispetto alla prima non soltanto perché adesso lui lavorando gomito a gomito con gli altri soccorritori si è calato nella realtà e quindi dice noi non voi ma perché si rende conto che non c'è spiegazione possibile non c'è razionalità la peste non si può spiegare perché non ci sarebbe spiegazione possibile bisogna semplicemente avere fede bisogna rimettersi a Dio e accettare che anche da questo anche da questo momento della vita c'è da imparare intanto si potevano avere altre ragioni di inquietudine in seguito alle difficoltà di vettovagliamento che crescevano con il tempo la speculazione se ne era immischiata e si offrivano a prezzi favolosi le derrate di prima necessità che mancavano sul mercato ordinario di modo che le famiglie povere si trovavano in una situazione penosissima mentre le famiglie ricche non mancavano pressoché di nulla e mentre la peste con l'efficace imparzialità che arricava nel suo ministero avrebbe dovuto rafforzare l'eguaglianza presso i nostri concittadini col gioco normale degli egoismi invece rendeva più acuto nel cuore degli uomini il sentimento dell'ingiustizia restava ben inteso l'eguaglianza incensurabile della morte ma di questa nessuno ne voleva sapere i poveri che soffrivano la fame pensavano con più nostalgia ancora alle città e alle campagne vicine dove la vita era libera e il pane non caro le autorità avevano contato sui giorni freddi per bloccare il cammino della peste ma questa passava attraverso i primi rigori della stagione senza disarmare bisognava aspettare ancora ma non si aspetta più a forza di aspettare e la nostra città intera viveva senza futuro il natale di quell'anno fu la festa dell'inferno piuttosto che del vangelo le botteghe vuote prive di luce la cioccolata finta o le scatole vuote nelle vetrine i tram carichi di facce scure nulla ricordava i natali trascorsi nella festa in cui tutti ricchi o poveri una volta si riunivano non c'era posto se non per alcuni godimenti solitari e vergognosi che certi privilegiati si procuravano a peso d'oro in fondo a un sudicio retro bottega le chiese erano piene di lamenti piuttosto che di atti di grazia non c'era posto nel cuore di tutti che per una vecchissima e tristissima speranza la stessa che impedisce agli uomini di lasciarsi andare alla morte e che non è se non una semplice ostinazione a vivere durante i primi giorni di gennaio il freddo si stabilì con insolita costanza e sembrò cristallizzarsi al di sopra della città e tuttavia il cielo non era mai stato così azzurro per interi giorni il suo immutabile gelido splendore inondò la nostra città di una luce ininterrotta in quest'aria purificata la peste in tre settimane e con successive cadute sembrò esaurirsi nei cadaveri sempre meno numerosi che allineava ed in breve tempo perdette quasi per intero le forze che per tanti mesi aveva accumulato il siero di Castel conosceva tutta un tratto una serie di successi che sino ad allora gli erano stati negati ciascuna delle misure prese dai medici e che prima non davano nessun risultato sembrava all'improvviso di sicuro effetto nel complesso il contagio indietreggiava su tutta la linea e i comunicati della prefettura che prima avevano fatto nascere una timida e segreta speranza finirono con il confermare nella mente di tutti la persuasione che la vittoria era conquistata e che la malattia abbandonava le sue posizioni in verità era difficile decidere se si trattasse di una vittoria soltanto si era portati a constatare che la malattia sembrava andarsene così come era venuta la strategia che le si opponeva non era cambiata inefficace ieri oggi apparentemente felice si aveva soltanto l'impressione che la malattia si fosse esaurita da se stessa o forse che si ritirasse dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi in qualche modo la sua parte era finita la popolazione visse in tale segreta agitazione fino al 25 gennaio quella settimana le statistiche precipitarono al punto che dopo aver consultato la commissione medica la prefettura annunciò che il contagio poteva considerarsi arginato e la sera del 25 gennaio una allegra agitazione colmò la città per unirsi alla gioia generale il prefetto diede ordine di ridare l'illuminazione dei tempi della salute nelle vie illuminate sotto un cielo freddo e puro i nostri concittadini si riversarono allora in gruppi clamorosi e ridenti come la liberazione la peste è sconfitta e si ritorna ad avere l'illuminazione non c'è più il coprifuoco la gente scende per le strade si stanno per riaprire le porte della città quindi sembra veramente che tutto sia passato proprio quando Rieu una sera torna a casa e sua madre le avverte è che Tarru è ammalato Tarru colui che aveva dato vita a queste squadre di volontari a questo punto il dottor Rieu si trova di fronte ad una posizione difficile lui che per mesi non ha fatto altro che andare a visitare i malati e certificarli e denunciarli e poi quindi obbligare ad andare in ospedale e far chiudere in quarantena la famiglia lui in questo momento quando sa che la città sta per essere riaperta decide di tacere decide di non denunciare e la madre con lui è d'accordo che Tarru resterà lì con loro e saranno loro a vegliarlo a curarlo Tarru resiste per due giorni nonstante il siero e poi muore nello stesso momento il dottor Rieu riceve un telegramma dalla moglie che sappiamo era andata fuori a città in una clinica per curarsi e il messaggio annuncia la morte della moglie Tarru aveva perduto la partita come diceva ma lui Rieu che cosa aveva guadagnato aveva soltanto guadagnato di avere conosciuto la peste e di ricordarsene di avere conosciuto l'amicizia e di ricordarsene di conoscere l'affetto e di doversene ricordare un giorno quanto l'uomo poteva guadagnare al gioco della peste e della vita era la conoscenza e la memoria era forse questo che Tarru chiamava guadagnare la partita ma se questo era guadagnare la partita come doveva essere duro vivere soltanto con quello che si sa e che si ricorda e privi di quello che si spera le porte della città finalmente si aprirono all'alba di una bella mattina di febbraio salutate dal popolo dai giornali dalla radio dai comunicati della prefettura grandi festeggiamenti erano organizzati per la giornata e per la notte nello stesso tempo i treni cominciarono a fumare alla stazione mentre provenendo da lontani mari i bassimenti volgevano ormai la prua verso il nostro porto sia indicare alla loro maniera che quel giorno era per quanti gemevano per essere stati separati il giorno del grande ricongiungimento si ballava in tutte le piazze le campane della città suonarono a distesa per tutto il pomeriggio colmando di vibrazioni un cielo azzurro e dorato nelle chiese si celebravano funzioni di ringraziamento ma intanto i locali di svago erano pieni sino a schiantare e i caffè senza curarsi del futuro distribuivano i loro ultimi liquori davanti ai banchi si stipava una folla di persone similmente eccitata e tra esse numerose coppie abbracciate che non temevano di dare spettacolo tutti gridavano e ridevano la provvista di vita che avevano fatto durante i mesi in cui ciascuno aveva fatto dell'anima sua un'ascolta la spendevano in quel giorno che era quasi il giorno della loro sopravvivenza il giorno dopo sarebbe cominciata la vita stessa con le sue precauzioni per il momento persone di origine assai diversa si affiancavano fraternizzando l'eguaglianza che la presenza della morte non era riuscita a realizzare la gioia della liberazione la stabiliva almeno per alcune ore rio camminava via via che procedeva la folla aumentava intorno a lui si gonfiava il tumulto sicché i soborghi a cui voleva arrivare gli sembrava che indietreggiassero di altrettanto a poco a poco egli si fondeva nel gran corpo urlante di cui sempre meglio capiva il grido che almeno per una parte era il suo nella notte adesso liberata il esiderio diventava senza ostacoli e il suo scroscio giungeva sino a rio dal porto oscuro salirono i primi razzi dei festeggiamenti ufficiali la città li salutò con una lunga e sorda esclamazione Tarru coloro e colei che rio aveva amato e perduto tutti morti o colpevoli erano dimenticati ma era la loro forza la loro innocenza e proprio qui al di sopra di ogni dolore rio sentiva di raggiungerli in mezzo ai gridi che raddoppiavano di forza e di durata e che si ripercotevano lungamente sino ai piedi della terrazza via via che gli steli multicolori si alzavano più numerosi nel cielo il dottor rio decise allora di redigere il racconto che qui finisce per non essere di quelli che tacciono per testimoniare a favore degli appestati per lasciare almeno un ricordo dell'ingiustizia e della violenza che gli erano state fatte e per dire semplicemente quello che si impara in mezzo ai flagelli e che ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da disprezzare ma egli sapeva tuttavia che questa cronaca non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva non poteva essere che la testimonianza di quello che si era dovuto compiere che certamente avrebbero dovuto ancora compiere contro il terrore e la sua instancabile arma nonostante i loro strazi personali tutti gli uomini che non potendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli si sforzano di essere dei medici ascoltando infatti i gridi di allegria che salivano dalla città Rieu ricordava che quell'allegria era sempre minacciata lui sapeva quello che la folla ignorava e che si può leggere nei libri ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria e che aspetta pazientemente nelle camere nelle cantine nelle valigie nei fazzoletti nelle cartacce e che forse verrebbe un giorno in cui per sventura e insegnamento agli uomini la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice ecco dunque il finale di questo romanzo un finale pessimista fatalista come del resto era l'autore per cui la peste che sembra vinta la città che festeggia la sua liberazione in realtà è coperta da un'ombra perché il bacillo della peste non muore mai se questo romanzo è stato letto con una interpretazione di quella che era stata la vicenda della seconda guerra mondiale che era stata vinta con una resistenza strenua con la solidarietà tra i cittadini allora il messaggio è che non bisogna abbassare mai la guardia perché il bacillo della peste il flagello della guerra in realtà non scompare mai e possono passare decine di anni come dice qui e ripresentarsi è lo scopo quindi di Rieux che qui si fa narratore per stendere questa cronaca lo scopo di chi come lui è medico e quindi è una vedetta è quello di restare sempre allerta è un messaggio pessimista però è un messaggio potente ed è un messaggio attuale e questo rende questo libro un classico ed è per questo che ho scelto di leggerlo con voi bene la lettura è durata a lungo ovviamente il testo è molto più lungo di così ho dovuto fare ampi tagli ma ho voluto darvi il senso spero di esserci riuscita dell'arrivo della peste della progressione e dei pensieri soprattutto che questa porta perlomeno nella mente del protagonista vi ringrazio spero che vi sia piaciuto questo libro che vi abbia in qualche modo toccato e fatto riflettere questo a mio avviso dovrebbe sempre essere il ruolo dei libri vi ringrazio per avermi seguito la prossima settimana leggeremo un testo completamente diverso che è il richiamo della foresta di jack london quindi per la prossima lettura vi aspetto martedì sempre alle 17 mentre giovedì quindi dopo domani c'è la prima vera puntata dell'ora del tè sempre alle 17 perché ovviamente è l'ora giusta grazie e sono contenta che questo libro vi abbia incuriosito grazie gianluca grazie giusi grazie amelia grazie che si è rica grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui vi auguro una splendida serata se vorrete ci vediamo giovedì per l'ora del tè e comunque per la prossima lettura martedì alle 17 grazie un saluto buona serata a tutti